e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi sono stam guys per ritornare a far la challenge una partita speriamo che questa volta non ci mettiamo un bel po di episodi la epica c'è così nulla epica nel giro fortunato gg e sta dicendo ritorniamo visto che ormai sembrando sia trick sia a giocare non è che si è migliorata chissà quando però almeno quindi se perdiamo il primo round il video finisce a seconda avete capito comunque è carina come skin vabbè come è beccato come è beccato ovviamente malissimo e siamo in ok facciamo il trick non lo becca fatto malissimo ho sbagliato regà no 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 niente sono ritornato qui bravo da che ho capito che il trick non funziona e che quindi è meglio qualificarci ok si sono qualificati tutti e 16 adesso vediamo quale sarà la seconda mappa sperando non di squadra perché sicuramente perderemo ci perderò vediamo un po' uh laser 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 anzi laser laser non so perché lo suonava male quando l'ho detta la prima volta ma perché alcuni stanno fermi cioè tre stavano fermi e si sono fatto eliminare quattro sono stati eliminati i ragazzi mancano tre eliminati si ma mi ero caccato sotto per un po' vabbè vabbè e mi ammisa che l'ultima mappa sarà non una mappa normale e niente lo sto tempo vabbè e regà lo aspira bene ma ah e niente regà c'ho spiegato tempo e niente regà c'ho spiegato tempo ma non un poco tempo un bel po' di tempo Ok Allora Eh regà ci abbiamo un bel po' davanti Regà è perso Ci sta quello davanti Niente Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like Nel prossimo video Ciao